Ciao, ciao ragazzi, eccoci nel mio canale, oggi siamo ritorno su Angry Birds, abbiamo appena nutrito il nostro pulcino, perché da giorni che non lo nutrivo, diceva, nutri oppure il tuo pulcino, se ne andrà. Eh ma devi schiacciare questo per farlo a livello 2. Sì, vabbè. Sceglia quale uccello darle più. Uh, 500 sono buoni. Le puoi dare a lui? Vabbè, 500 sono tardi, dai, vediamo lui. Eh, siamo a livello oro, guardami, guardate, oro. Però sono ancora bravo. Schiaccia quello là, giallo, che lo salì di... Faccio salire per il livello. Uh, vai. No, che sono. Fite? Ha chiamato Fite. Ma che ne so, ragazzi. Ah, è vero. All'inizio... Eh, quando ha chiamato loro Fite. Comunque, ragazzi, è perfetto. Livello 2. Livello 2, guardate, è cambiato di colore. È diventato anche più grande. Eh, non è cresciuto. Eh, dà uno di energia a tutti. Due. È troppo forte. Anzi, due di energia. No, uno perché a Gincio ne ha dato già... Sì, vabbè, adesso... Qui, adesso quello... Quello grande ha otto di energia. Troppo forte. Quindi dobbiamo notrire. Ragazzi, oggi sarà un... Sarà un... Una puntata speciale. Perché vedete qua? Che c'è stato il livello 25. Adesso noi andremo a fare il livello 25 e vedremo cosa succederà. E vedremo quella del Colosseo. Già, vedremo cosa succederà con i livelli speciali. Oggi è il livello speciale del Colosseo. Sì, però no, vabbè. Oggi è il livello speciale del Red. Perfetto. Perfetto. Se lo vinciamo, rocchiamo quella... Il livello 25, ragazzi. Dateci la buona fortuna perché noi qua... Qua non si scherza, eh. Ma dove siamo? Are in finita, noi? O arriva con dei livelli un po' più... Boh... Non l'ho mai... Non l'ho mai saputo. No, perché qualche volta c'è un'area in finita e c'è un'area anche che ci sono le professe. Vabbè, per dirlo. Siamo con Lorenzo. L'avrete già notato. Ragazzi. Questo è un video molto particolare. Non perdetevelo. Speriamo di riuscire a pubblicarlo. Anche se adesso lo stiamo vedendo. Comunque fa niente. Speciale tanti like. Ah, ho già detto nello scorso episodio che il prossimo video sarà uno speciale. Non lo spettacolo. Non lo spettacolo, però il prossimo... Il prossimo sarà uno speciale. Ok, quando fate lo speciale... Mettete like e cerriamo una serie di... Bisogna vedere se ci arriviamo ai like che chiederò alla fine del video. Giusto. Ok, iniziamo. Perfetto, siamo qua. Vabbè, è il livello 25. Non so perché c'era un colosseo. Vai, adesso lo iniziamo al primo colpo. Sperto. Sperto. C'è un... Andiamo subito con l'oro. Andiamo subito con l'oro. Cioè, intanto con l'oro. Subito. Se sbagliamo con l'oro... Se sbagliamo con l'oro... Oh, abbiamo... No, se lo dobbiamo tenere l'oro, ma... No, vabbè, io vado subito di gigante. E no... Devo... Vai! Così! Lanciamolo! Tanto lui non ha un'abilità speciale, quindi dobbiamo sperarne la fortuna. Colpisce! E affonda! E affonda! No... No, voglio vedere veramente se riesce a vincere. A resistere. Nooo... Questo qua è sopravvissuto. Mamma mia, ne è sopravvissuto uno. Uno ne è sopravvissuto. E abbiamo sprecato anche l'oro. Guardi, ma andiamo a vedere come va a finire sta roba. Forse non lo prendiamo. No, guardi, io spero... Sinceramente... Più o meno la tacca qua. Sbatti. Si è andato, quindi si è andato troppo... No, dai, dobbiamo... Non dovrei schiacciare, perché se schiaccia va più su. Eh sì, va più veloce. Su no, che dico. Ma va più veloce, quindi. Va più veloce e basta. Va più su. Vabbè, lasciamolo credere quello che vuole. E nel frattempo... Hai perso. No, fa niente. L'importante è che ci siamo divertiti. Vai, la prima è stata fatta, spero. Io no, sì. Ho avvenuto una cartellina, una cartellina, una cartellina, abbiamo spiegato tre personaggi. E nessuna cartellina, ne ho una. E poi abbiamo ancora due ondate. Ed è da cinque minuti che registriamo. Ma io mi pensavo due secondi. Un minuto, due minuti, ma cinque. Allora, ragazzi, ma cos'è sta cosa, la costruzione? Vediamo alla fine, sperando che riusciano a sbloccare. Eccoci, ritornati. Il livello l'abbiamo felicemente vinto. In una, in un tentativo. Sì, vabbè, l'abbiamo vinto in quel tentativo che dopo l'abbiamo tagliato. Perché ci stava. a sbloccare minuti. Per ricarare minuti perché continuo a ripetere che la mia è una registrazione un po' schifosa. Perfetto, ragazzi. Stanno il colore. O qualsiasi cosa sia. O sì. Sì, state attenti. Il momento è solenne. UBP. Arena P. UBP. Cos'è? Io non lo so. Anna P. UBP è uno contro uno. Scrivetevi sotto nei commenti se lo sapete e se ha ragione il mio fratello. È tipo come quella dei romani che combattevano. Un coso di gladiatone. Anna P. VBP perché voglio che loro sono felici. Ma io non è proprio quello che voglio. Perché quelle là sono felici. Ma perché combattono? Noi oggi proveremo subito questa bellissima arena. VBP. Uno contro uno. Che lo fanno? VBP. P. P. Apera contro Bapera. Sì. 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 Posso spoilerare il film? Non solo. Comunque. Vedel tiete. Magari dopo uno non l'ha visto. Comunque vedete? Ma è vecchissimo l'uola. Non è vecchissimo. Tutti l'hanno visto. Comunque se non hanno visto chi lo sa. Tipo per esempio gioca in presso gratuito. con 2 e poi con 1 e poi con 600 e poi con 1000 campionato vaniglia torna a finire campionato vaniglia 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 quindi c'è un uomo con dentro la vaniglia mmm buono Lorenzo 0 stelle 30 gemme ma da quando ci abbiamo partecipato? non ce l'avevamo stata in pvp ragazzi qua si sta riccamento di attaglio no no trovo la cannesione internet e riprova no 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 perché allora un attimo che ringrazio purtroppo il problema è troppo baggato quindi non possiamo risolverlo io vi saluto qui nel prossimo episodio combatteremo nell'arena quindi mi raccomando qua sotto nei commenti faccia proprio cos'è mettete un mi piace commentate ciao 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 ciao